La cosa che io apprezzo di più in un film è che ti sorprenda, è che tu non sappia dove va a finire, non sappia il cammino che prende il film e quindi ti lascia accompagnare dal film, viaggi con lui, non sai dove va e quindi quel tempo che tu passi con il film è un tempo che ti arricchisce, in cui non c'è un già visto, non c'è un già sentito, non sai prevedere quello che può accadere, quando invece succede il contrario, che qualcosa ti sembra già visto, già sentito, allora è molto noioso e quando invece succede qualcosa che ti sorprende molto spesso ti senti arricchito, senti che ti ha dato uno sguardo e quindi tu hai guardato con gli occhi di qualcun altro, il mondo, quella porzione di mondo che il film ti fa vedere. Per me non è facile rispondere perché io a volte faccio i film e allora è una domanda, ogni tanto quando fai i film cerchi magari di rispondere a questa domanda che avete fatto, però sono d'accordo anche con Daniele perché Daniele ha pronunciato da parola un viaggio, un film è sempre un viaggio, è sempre, è un viaggio molto intimo, sempre molto personale e essendo qui nel ruolo di non di presentare il mio viaggio ma di condividere i viaggi degli altri, allora sì, in qualche modo di vedere altri film, è un viaggio, è un viaggio quando qualcuno ti invita ad andare insieme con te, è questa che affascina molto, affascina, interessa e non so, io faccio i film ogni tanto, è difficile rispondere a queste domande. La cosa che ho notato nel concorso ufficiale di quest'anno è la volontà, l'intenzione di costruire è un percorso variegato, cioè un percorso che non va in un'unica direzione ma che cerca di presentare film che abbiano forme di ricerca, di costruzione dell'immagine diversa e questo credo sia uno degli aspetti più importanti nella costruzione di un concorso, cioè dare l'idea di una molteplicità di possibilità, cioè che il cinema non è un solo monolitico linguaggio ma in realtà può articolarsi in tante forme. La cosa che ho notato quest'anno, che è bella e al tempo stesso un rischio, è quella di privilegiare molto spesso film che abbiano una ricerca sull'immagine molto importante, in cui cioè l'immagine, la capacità di costruzione dell'immagine è stata per molti film del concorso uno degli elementi che più saltava agli occhi che da una parte dice molto sul fatto che il cinema documentario contemporaneo è una ricerca sull'immagine e anche una ricerca sull'immagine. Dall'altra c'è sempre il rischio che la ricerca sull'immagine possa prendere il sopravvento rispetto all'essenza stessa del film. Quindi anche questo fa riflettere, fa riflettere come tendenza, fa riflettere come direzione che in questo momento il cinema del reale sta prendendo. Sì, a parte quello che ha detto Daniele, è una caratteristica di questa selezione e forse questa caratterizza anche lo stato del cinema di oggi, che sono i pericoli molto personali, molto personali, d'autore. Tante pericole che vanno da l'autore verso te e l'autore, un autore, vuole con te condividere le cose molto 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 personali spesso e ho visto che sono tanti film così. Secondo me questa cosa qui descrive un po' la situazione con il cinema, la situazione moderna, contemporanea di cinema, perché il cinema una volta era non raggiungibile per tutti, per avere accesso a girare un film, bisogna fare un certo percorso per arrivare ad una camera da fare questa azione eccetera eccetera. Ora il cinema è accessibile perché con i mezzi, i mezzi tecnici, i mezzi digitali, ognuno può fare un film in realtà, quando vuole. Credo che tante persone che magari dieci anni fa, vent'anni fa, scrivevano un articolo, ora fanno un documentario, eccetera eccetera. Il linguaggio cinematografico, il linguaggio di immagine è diventato il linguaggio democratico comune, cambia il linguaggio. E qui, e questo è interessante, bisogna accettare questo, e questo è interessantissimo perché diventa più democratico, più libero, un artista deve essere molto sensibile a queste cose. Dante Alighieri ha scritto in italiano la Divina Commedia, prima è scritto solo in latino, sì? Ora con il cinema è passato, ma tempo fa è passato in latino, ora tutti parlano in una lingua cittadina, spesso volgare, spesso tutto, però è questa la realtà, la realtà del cinema anche.